Andrà Rubiolo per IdeaWebTV, siamo ancora qui a Verzuolo dove il Busca ha conquistato tre punti importantissimi in ottica salvezza, una vittoria importante. Abbiamo qui Mirko Pieracche, autore del secondo gol grigio-rosso, che di fatto ha chiuso la partita, se no l'ha avviata verso i binari giusti per la sua squadra. Mirko, è la tua sesta rete stagionale, raccontaci com'è andata. Sì, sapevo anche che la partita era importante, dovevamo fare tre punti per poter riavvicinarci e non lasciare staccare il gruppetto davanti del Saluzzo e dell'Olmo. Ce l'abbiamo messa tutta per portare a casa i tre punti, abbiamo messo la grinta che forse in altre partite ci è mancata e già nel primo tempo eravamo riusciti quasi a chiudere la partita con un 2-0 e in cui non abbiamo rischiato poco o niente. Saluzzo e dell'Olmo che oggi hanno vinto i rispettivi incontri mantenendo invariato il distacco, notizia positiva, la sconfitta del Cinesia con l'Aqui che di fatto vi avvicina ai play-out e allontana la retrocessione diretta. Il tuo è un gol atteso da tempo e com'è un periodo di astinenza per una punta? Sì, in effetti era ormai settimana che non riuscivo più a segnare, anche le prestazioni non erano state esaltanti e in effetti come tutti gli attaccanti si vive abbastanza male questo periodo, però era importante soprattutto prendere i tre punti e poi i miei gol vengono dopo e sono contento comunque di aver fatto il secondo e di essere arrivato a sei gol stagionali. Questa sera hai cambiato partner d'attacco, solitamente giochi con Fabio Piroli, questo oggi ho giocato con Pietro Bertola che di fatto è un po' un giocatore simile a te per movimenti. Come è cambiare partner d'attacco e come ti sei trovato questa sera? Io con Pietro ho già giocato diverse volte anche negli anni passati e mi sono sempre trovato bene, lui è un bravissimo giocatore e come si è visto anche stasera mi ha messo più volte davanti alla porta. E quindi anche con Piroli certamente mi sono sempre trovato bene, sono due attaccanti diversi, Piroli più fisico e un po' più statico, mentre appunto Bertola è più simile a me, però mi sembra che sia andata abbastanza bene, anche se quest'anno non abbiamo avuto molte occasioni per giocare insieme, mi sembra che ci siano trovati bene. Domenica trasferta in quel di Lucento con una rosa rimaneggiata dalle squalifiche, infatti ci saranno molti diffidati questa sera, sono stati ammuniti e quindi salteranno la trasferta. Tu sei uno di questi e quindi vedrai la partita dalla tribuna. Cosa bisogna fare? Cosa deve fare il Busca per arrivare ai play-out carica e come si affrontano degli spareggi? Sì, Lucento sarà di nuovo una partita come ormai da adesso in avanti importantissima in cui dovremmo cercare di portare a casa dei punti. Sicuramente il fatto che abbiamo quattro squalificati non è una cosa positiva, però sicuramente chi giocherà darà al 100% e dobbiamo sicuramente portare a casa dei punti da qui alla fine per poter arrivare ai play-out con lo spirito giusto.